Ciao bambini, sono la maestra amica dei verbi. Oggi, guardate un po', c'è un nuovo amico insieme ad Occhio San Lertus. Oggi i nostri personaggi vi racconteranno la storia di Chocolate. Visto che è il periodo delle uova di Pasqua, ho pensato di leggervi questa storia davvero, davvero divertente. Chocolate, fate attenzione! One day, Rat was going to visit Occhio San Lertus. Lo vedete il topolino, decide di andare a trovare Occhio San Lertus. Occhio put a plate of chocolate on the table. I'm going to buy some lemonade, but please don't touch the chocolate. Vedete, Occhio saluta Lertus e dice, vado a prendere della limonata, mi raccomando, non toccare assolutamente la cioccolata. All right, all right, see you later, bye bye! D'accordo, d'accordo, ci vediamo dopo! A dopo! Mmmmm! So much chocolate, let me count! Guardate, sta guardando tutti i pezzi di cioccolata, riguarda e comincia anche a contarli. 1, 2, 3, 4, this one is for Rat, questo è per il mio amico Topolino. This one is for Hockies, questo è per il mio amico Hockies, and this one is for me, e questo è per me. And this one is for, for? Nobody! Non è per nessuno! Allora decide di mangiare solo lei, solo un pezzettino però. I'll eat it, yeah! Now, this one is too big, I'll break it. Questo pezzo è troppo grande, lo spezza a metà, crack! I'll eat it, nice, yum, yum! In a short time, Lotus had finished all the chocolate. In pochissimo tempo, ha finito tutto il vassoio di cioccolata. Ecco, ecco il Hockies che sta rientrando a casa. Hockies was back home and the Lotus was ill. Hello, Lotus! I've got the lemonade! Bart ha procurato la limonata. Oh, my dear! Latties! Poor, poor Latties! Oh, I've got a stomachache! Ho un fortissimo mal di pancia! I'm cold! I want my teddy bear! Ho molto freddo! E mi puoi portare per piacere l'orsetto? Poor, poor Latties! I'm going to phone the doctor! Vado subito a chiamare il dottore! The doctor! Guardate! Comincia a digitare i numeri! 1, 4, 4, 6, 6, 8 Hello, doctor! Doctore! Lotus is ill! She's got a stomachache! What? An injection? All right! The doctor said you need an injection! No, I'm well again! Sì? Sto bene ora! Sente bussare! Oh, no! I don't want an injection! Non vuole fare la puntura all'iniezione! Sarà il dottore? Vediamo, vediamo un po'. No! It was not the doctor! It was a rat! Era il topolino! Ah! Rat! It is you! Lotus is ill! Sta male a malata! Oh, poor Lotus! This present is for her! Questo regalo è per lei! Lei si avvicina subito alla porta! A present for me? How nice! What is it? Che cos'è? Indovinate un po'! Oh, no! When Lotus opened the box! Chocolate! Oh, no! Bye, bye! Mi raccomando, anche voi fate attenzione con la cioccolata! Buona festa a tutti! Be a tutti!